Anche contro il Monza. La Juventus è riuscita a perdere anche contro il Monza. E chiariamoci subito, non è tanto il fatto di perdere contro il Monza una partita durante l'anno che perdi contro una squadra sulla carta nettamente inferiore nel calcio e la BCD. Però è l'ennesima, è l'ennesima partita che la Juventus perde senza giocare, senza giocare. Non lo so, ormai dopo il PSG, dopo la Salernitana, dopo il Benfica, non è che mi aspettassi qualcosa, cioè mi aspettavo tranquillamente di vedere una partita con un pareggio, ma anche tu, tu che sei Di Maria, tu che sei uno dei giocatori comunque su cui la Juve ha fondato il progetto per ripartire, per andare quantomeno a vincere qualcosa nel più breve tempo possibile, sotto provocazione, in un momento di difficoltà, vai a tirare una gomitata nello sterno a Izzo. Cioè, ma come ti viene in mente? Io a sto punto l'unica ipotesi che posso avere è che la Juventus stia andando contro Allegri, perché se non è così e questo è quello che la Juve può fare in campo, siamo arrivati alla frutta. Quest'anno si va in Conference League e tutti gli sforzi serviranno per andare in Conference League, perché, boh, complimenti al Monza che ha disputato una signora partita, perché, però, non è che ha avuto tanto da fare, cioè la Juventus anche in undici non sarebbe riuscita a vincerla per quello che ho visto io, perché non c'è stata un'azione, non c'è stato un tiro in porta. Timidamente, forse, ma non mi viene in mente nulla, ma ne è un colpo di testa, non lo so, forse poi mi sfugge qualcosa, ma con questa pochezza in campo è difficile ricordarsi un episodio favorevole alla Juve. Non so, non so, ci sarebbero tante opinioni da dire, tante cose, e del solito Allegri è out, ma... Cioè, o appunto i giocatori vanno contro Allegri, e quindi ormai siamo al punto in cui la squadra non gioca sperando che lo esonerino il più in fretta possibile, oppure siamo a un punto in cui la pochezza di idee e i giocatori stessi sono arrivati quelli che erano già alla Juve a fine ciclo, e i nuovi che abbiamo preso non sono neanche entrati nelle meccaniche di gioco, ma è spaventoso. Cioè, pensare di aver comprato Blaovic sei mesi fa, in estate di Maria Pogba, che poi per carità è rotto, tutto quello che vogliamo, ma... Sei la Juve. Sei senza... per carità oggi era senza Quadrado. Finalmente recuperato di Maria, che si fa espellere. Sei senza Pogba, senza Locatelli, senza Rabiot, senza Chiesa. Però ha in campo Bremer, Blaovic. Lasciamo perdere la difesa, perché quella purtroppo, secondo me, è una delle ultime di Serie A ormai. La difesa della Juventus ne parlano tutti come se Bonucci e Bremer... Per carità, Bonucci e Bremer sì, ma quando vedi in campo... Gatti che speriamo cresca. E Rugani che, poverino, non è mai riuscito ad ambientarsi in una squadra, ma la Juventus l'ha tenuto perché crede in lui come quarto di difesa... Beh, però in campo hai comunque McKennie, hai comunque Paredes, hai comunque Blaovic, hai comunque Kostic, hai comunque Di Maria. Secondo me, col Monza, potresti provare a portarti tre punti a casa, ma dico così, eh. Però a questo punto è chiaro che ci sia quantomeno un ammutilamento, o uno scontento generale che non permette alla Juve di giocare le partite in modo lucido. Se no, non si spiega. Quattro partite senza vincere, senza una vittoria, beccando comunque avversari a parte del PSG, che la Juve dovrebbe essere non soltanto in grado di affrontare, ma per quanto ci abituato negli ultimi anni la Juve, queste quattro partite qua avrebbero dovuto rappresentare tre vittorie e una sconfitta, due vittorie e un pareggio e una sconfitta. La butto lì così. Poi, ripeto, il calcio è una cosa che non ha una scienza esatta. Non è che se tu sei nettamente più forte del Monza, per forza vinci contro il Monza. Però tutte queste partite di fila, ma poi scelte societarie, non so, non so. Io, da opinionista, da tifoso, qualunque quale sono, non so dire cosa stia accadendo, ma sono sicuro del fatto che questo sia probabilmente il momento più basso degli ultimi dieci anni della Juventus. Nonostante la formazione per me sia molto più forte quest'anno sulla carta dell'anno scorso. Intanto qua fanno rivedere il rosso di Maria, che è anche lì veramente. Ma come cazzo fai? Cioè, sei il giocatore su cui la Juve punta in questa partita? Ti hanno recuperato? Ti strattona un difensore? Tu, con tutte le esperienze che hai avuto, vai a dirgli una gomitata nell'osserno. Non so, non so, non so. Io incito tutti i tifosi a rimanere tifosi anche nei momenti più grigi che affrontano una squadra, perché io sono il primo a dire Forza Juve anche oggi, ma... C'è qualcosa che veramente non va. Direi Allegri, direi la squadra, direi la società, a me sembra tutto. E da un mesetto a questa parte di salvabile non vedo niente e nessuno in tutta la Juve. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto e speriamo che questa sosta fino a ottobre dia modo alla Juve di recuperare un minimo di energie, ma... Non lo so, non lo so. Grazie.